Polemiche, proteste e disagi insieme ad una petizione con 70 firmatari sottolineano a Lanciano il malumore relativo all'ordinanza che vieta le auto il transito e la sosta in via Fiume, via Montegrappa dalle 7.40 alle 8.30 e dalle 12.40 alle 13.30 del mattino. Una decisione dell'amministrazione Pupillo per garantire la sicurezza e il distanziamento dei bambini che si recano nella scuola primaria Principe di Piemonte. A protestare in modo determinato è a firmare la petizione che chiede la rimozione immediata dei divieti soprattutto residenti e commercianti e quanti lavorano in zona tra uffici, una banca, il tribunale. Il provvedimento inoltre è stato adottato dall'oggio al domani senza nessuna concertazione con l'intera comunità. Già qua tutti quanti alle 8 la mattina in genere quando è tutto nella normalità, cioè senza covid, senza niente, già alle 8 non si trova più un posto. Quindi immaginiamo che il disagio ha creato sta cosa, la gente viene e trova chi dopo, chi si parcheggia, che i vigili non ci sono perché allora se è una cosa che va fatta a noi, i vigili vengono tutte le mattine e vengono a far rispettare questa ordinanza perché sennò qua ognuno fa il comodo suo. Noi siamo d'accordo anche con il divieto di circolazione al momento dell'ingresso e dell'uscita dei bambini, perché giustamente per motivi di sicurezza, però i parcheggi li potrebbero almeno lasciare o perlomeno ridimensionare il ristringimento dei parcheggi. Noi ci rimettiamo al comune perché siamo rimasti un po' tutti sbigottiti davanti a questo tipo di isola, diciamo, di questo tipo di divieto, perché sì, comunque c'è sempre stata la scuola qua, addirittura la preside e la segretaria sono anni che stanno chiedendo che il sabato mattina dalle 8 alle 8 e un quarto gli venga concesso per l'uscita e l'entrata dei bambini, non gli è stato mai concesso all'improvviso, vediamo, vengono a mettere i cartelli?